D'accordo, abbiamo un indizio. Il bigliettino è la chiave per rintracciare Bibi e Cyborg. Qualcuna di voi, ragazze, vuole affrontare il qui presente esperto investigatore? Lo faccio io, ma non è una competizione. Sai bene che lo è e perderai di sicuro. Inizio cercando un indizio sul biglietto. Ah, una parte microscopica di un capello. Ora estraggo il DNA, poi faccio il riferimento incrociato dei dati con tutte le forme di vita organiche e la... Dammelo! Aiuto, scimmia. Siamo allo giò. Ha vinto Lolli. Le guardie di Mojo. Ci penso io, li batterò con gentilezza. Allora io li legherò a una sedia in cantina con la gentilezza. Sì, io gli frantumo le ossa con gentilezza. Va bene, iniziamo. Dopo di te. Dopo di te. No, no. Dopo di te. Dopo di te. Insisto. Vai prima tu. Tu, 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 tu. Ho detto dopo di te! Ha vinto Dolly. Grazie per essere venuti allo zoo. Mi occupo io di quei robot. Non hai intenzione di partecipare? Mi sono ricordata, non importa Abbiamo vinto noi la competizione Non era una competizione Siete davvero delle immature? Cosa vi aspettavate? Sono lattanti